Il nostro ente che gestisce un'attività articolata e complessa è articolato in servizi, in ambiti, ovviamente per consentire lo svolgimento delle attività sono divise in vari settori, ma lo sforzo che è stato fatto con le ultime riorganizzazioni è che i settori, i servizi parlino tra di loro affinché poi il risultato finale sia un risultato a favore dell'iscritto che si deve confrontare con la cassa e non con più uffici. Qualche criticità nei rapporti con gli iscritti si tratta di un numero di iscritti molto elevato, ma soprattutto si tratta di una materia molto complessa. Noi raccogliamo contributi, eroghiamo prestazioni, eroghiamo servizi di welfare. La criticità maggiore è nel fatto che ogni posizione pensionistica, ogni posizione dell'iscritto ha una vita a sé stante. Quindi la criticità può essere riscontrata nel fatto che è necessario avere il tempo, la competenza per dare la giusta competenza e quindi bisogna organizzarsi in questa direzione. In questi ultimi anni la cassa si è dedicata molto ad organizzare un canale di contatto diretto tra iscritti e cassa, anzi a organizzare più canali. Come dicevamo prima l'attività che svolge la cassa è un'attività complessa, è un'attività molto articolata che richiede tempo, consulenza. Quindi si è pensato di organizzare un ufficio di front office, quindi un ufficio unico che riceve le chiamate e anche i contact center, una sorta di chat con gli iscritti e gestisce questi rapporti. Quindi abbiamo un ufficio di front office e accanto a questo l'ufficio ovviamente si appoggia poi agli uffici interni di back office e quindi dà tutte le informazioni necessarie in tempi brevi o in tempi più lunghi a seconda della consulenza che è necessaria. Ma accanto a questi canali, quindi a questo contatto diretto col front office, è stato pensato anche di sviluppare dei servizi sull'area riservata del sito. Infatti è possibile sull'area riservata prenotare richiamate telefoniche, cioè se si vuole contattare la cassa, essere ricontattati in fasce orarie, si può prenotare la chiamata sia dell'ufficio del front office o anche dei dirigenti, anche eventualmente del direttore proprio per avere la certezza di essere richiamati e per avere un contatto e si può prenotare anche la possibilità di un appuntamento a Roma in modo tale poi oltretutto che quando si arriva a Roma o quando si è richiamati, la persona che richiama il geometra si è anche preventivamente informata e quindi il contatto con il geometra è più efficiente perché arriva un colloquio, se arriva un colloquio in modo preparati.